Rebecca, è bravo questo cavallino, ma è divertente, non mangia più la carotina? Forse vuole dormire, ha chiuso gli occhi, ha chiuso gli occhi, come si fa? Fa da solo, ha ripreso? Prova a spazzolarlo sulla schiena, vediamo un po', cosa fai? Mordi l'orecchio? Cos'è che gli stai dicendo nell'orecchio? Ma ci ha ancora attaccato all'orecchio un cosino nero, cos'è? Il punzone di riconoscimento? Prova a spazzolarlo un attimino, fammi vedere cosa succede se gli spazzoli bene la schiena Prendi la spazzola, bella questa spazzola Ah, tutto contento Mi fai vedere un attimo la spazzola, per favore? Voglio vedere una cosa Vedete, questa qua è la spazzola, questo giusto per capire, no? Questa è la spazzola, ecco Vedi che è un blocco di plastica, non è che ha delle setule che corrono Bello, eh? Proprio bello, eh? È bello questo gioco, ti piace a te? Guarda lì, guarda lì Ma guarda te sei Poveri bambini moderni, eh? Che vogliono tutti i cavalli Che vogliono tutti i cavalli da cerebrolesi, belli, belli Non ce ne sono tantissimi No, non ce ne sono tantissimi, per fortuna c'è solo Sì, sono due Quali? Questo è? Un altro cavallo c'è? Sì E qual è? Come si chiama? Questo qua si chiama Toffì, giusto? Toffì No No Come si chiama? Lo chiamiamolo Ninni Ninni, brava, chiamiamolo Ninni Però il gioco si chiama Toffì Ciao ciao